Sono venuto qui in maniera un po' inaspettata rispetto al solito perché con le vittorie non parlo mai, ma non sono venuto chiaramente a prendere applausi o meriti. Vengo solo a fare un ringraziamento ai tifosi, ci tengo veramente tanto a farlo in pubblico, a farlo di fronte a tutti, di fronte alla città, a voi che siete i media che ci seguono tutte le partite perché ieri, oggi, sinceramente anche in tutte le stagioni passate, però veramente volevo sottolineare il supporto e la carica che ieri hanno dato alla squadra e che danno continuamente a questi ragazzi venendo al campo e incitandoli dopo chiaramente un inizio di stagione difficile e oggi chiaramente hanno messo la ciliegina con un sostegno incredibile e uno stadio fantastico, perciò veramente un grande ringraziamento da parte nostra, da parte di tutta la squadra, so che sicuramente l'avranno anche già detto, però ci tenevo tanto. Grazie ai tifosi.